Ciao Richia, frudite, benvenuti o bentornate nuovamente. Se tu invece non mi conosci e è la prima volta che mi stai guardando, il mio nome è Verenice e ti invito ad iscriverti a questo canale. Allora, come state vedendo dal titolo del video, oggi staremo testando questo sapone biologico che mi ha inviato la pagina Olgi Afro Imas, che trovate anche su Instagram. Si vedete sotto nella parte destra del video, vi ho lasciato tutti i contatti per entrare appunto in contatto con lei. Allora, questo sapone di carbone e menta è di 50 grammi e costa 3 euro. Comunque so che ci sono delle promozioni in base alla quantità di saponi biologici, perché ci sono tanti tipi. In base alla quantità di saponi biologici che comprate, so che lei fa lo sconto. Per questo vi consiglio direttamente di scrivere a lei e chiedere ulteriori informazioni. Comunque lei parla anche in italiano. Tranquillamente lo capisce, potete tranquillamente scrivere. Iniziamo a parlare delle proprietà di questo sapone. Anzi, iniziamo a dire che, come vedete, ho diviso i capelli in quattro sessioni, perché quando lavo i capelli con del sapone... Uh, scusate. Quando parlo... Quando lavo i capelli con un sapone solido, con uno shampoo solido, io tendo... Per me è molto più facile, per arrivare a tutte le zone che mi interessano, tendo a dividere i capelli in sessioni, lavarli per sessioni, e poi alla fine sciacquare il tutto per bene. Allora, come dicevo, le proprietà di questo sapone... Iniziamo per la parte del carbone, perché carbone è menta. Il carbone serve per detossinare. Grazie alle sue proprietà assorbenti, il carbone vegetale agisce come una calamita che cattura le particelle inquinanti che sono nell'aria, ma anche quelle di tabacco o di qualsiasi altra sostanza che viene a contatto con i capelli. Ed è pertanto utile per purificare i capelli e il cuoio capelluto. Lo sappiamo che quando usciamo in giro, andiamo per strada, anche se noi personalmente non siamo fumatori, il fumo, non solo quello della sigaretta, ma anche lo smog delle macchine, tutto quanto va ad entrare in contatto con i capelli durante tutta la settimana se state andando al lavoro. Quindi, una volta a settimana o due volte, quando preferite voi in basse a quello che siete abituate, potete lavare i vostri capelli con un sapone a base di carbone. Io questo sapone vi lo consiglio perché è altamente biologico, è a base di gliserina e la gliserina è molto, diciamo, conveniente per i capelli ricci, afro e non solo, ok? Ha, diciamo, un effetto, ha un agente comunque che pulisce, ma molto delicatamente, è una pulizia delicata, infatti poi vedrete alla fine del video come, qual è il risultato con i capelli asciutti e non ho applicato balsamo né niente, ho solo fatto il lavaggio con il sapone e basta. E quindi vi farò vedere poi il risultato finale. Perciò è un sapone che pulisce non molto in profondità, quindi se avete i capelli molto, 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 molto sporchi e dovete comunque togliere delle silicone che avete nei capelli perché avete utilizzato qualche prodotto con silicone, dovete utilizzare uno shampoo con surfato. Però se volete lavare i capelli di nuovo in settimana, potete usare perfettamente questi saponi biologici. Ovviamente non c'è solo questo al carbone e la menta, c'è anche altri tipi di, insomma, di saponi, comunque entrando in comunicazione con lei o andando sulla mia pagina, io andrò piano piano a pubblicarvi tutti quelli che lei mi ha mandato. Oppure potete andare nel video anteriore a questo dove ho aperto la scatola che lei mi ha mandato e ho fatto vedere tutti i saponi che c'erano, che erano presenti nella scatola. Adesso passiamo alla menta. La menta che, insomma, la menta sappiamo tutti che è una sostanza, per chiamarla in qualche modo, che andrà a stimolare tantissimo la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto e perciò andrà anche a stimolare la crescita dei capelli. Io non sono, so che tante di voi non sono tanto fissate con la crescita dei capelli, però comunque se tendete a portare un taglio di capelli, siccome ogni top di tempo dovete sistemare il taglio, è importante che i capelli crescano, non che i capelli si stanchino lì, non crescano più, perché altrimenti abbiamo un problema proprio. quindi è importante che i capelli fanno il loro ciclo, che crescano, che escono quelli nuovi e la menta andrà a aiutare tantissimo in questo aspetto e in anche altri. Io vi invito proprio ad andare a approfondire sulle proprietà di questi prodotti nei capelli, di queste sostanze, di queste, come dire, cose nei capelli. Adesso state vedendo alla fine il risultato finale con i capelli bagnati, quanto pulito benissimo, ha lasciato i capelli morbidissimi. Io ovviamente ringrazio tantissimo a Olga, lei si chiama Olga, per avermi mandato questi saponi. Contattatela direttamente, approfittate anche della promozione che lei fa in basso alla quantità di saponi che acquistate. Io vi ringrazio tantissimo, come vedete sto pubblicando un solo video a settimana, perché il tempo che ho in questo momento è quello, quindi per un video a settimana. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, noi ci vediamo la prossima domenica. Un bacino, ciao!